Volevo parlare in italiano, parlando della tolleranza e della generosità e dell'immigrazione che fa che la tolleranza sia necessaria in tutti i nostri paesi. Da incominciare, Sandra e io siamo prodotti di questa immigrazione, quella europea verso l'America, e mio nonno è andato in Perù per costruire delle centrali idroelettriche, abbiamo un contratto di 4 anni e è rimasto tutta la vita. I parenti di Sandra erano scozzesi che sono andati a costruire i treni nell'altoppiano peruviano e anche sono rimasti lì. Oggi il Perù accoglie più o meno 400.000 venezuelani che sono arrivati negli ultimi due anni, quindi penso che tutti i paesi abbiamo dei confronti dei problemi di migrazione e dunque la tolleranza e la generosità soprattutto diventa una cosa estremamente ricercata, diciamo, evoluta. Allora, siccome non ho mai studiato italiano, il mio italiano è quello di casa quando avevo 5 anni con la mamma, abbiamo preso le note però volevo parlare in italiano. adesso vi presentiamo, come diceva Fulvio, questo progetto che è il luogo della memoria che è il nome ufficiale, finalmente il luogo della memoria, la tolleranza e l'inclusione sociale che fu lanciato da Mario Vargasiosa, lo scrittore premio Nobel peruviano, nel 2010 organizzando un concorso nazionale dove parteciparono più di 300 studi di architettura, la giuria è stata composta da Francesco Alcò, Kenneth Frampton e Raffael Moneo e che fu parte di un processo diciamo di selezione esemplare, concluso 5 anni dopo con l'apertura al pubblico, non senza difficoltà politiche e economiche perché questi luoghi normalmente sono luoghi non molto amati dai governi. Nel caso peruviano il Perù non ha voluto mai costruire questo luogo e grazie a Vargasiosa che ha trovato un finanziamento del governo tedesco prima che appoggia tutti questi processi di memoria e poi dall'Unione Europea e con quel finanziamento si è potuto costruire. Soltanto come aneddota il luogo della memoria è stato inaugurato tre volte nelle due prime anche se è venuto il presidente tedesco, il presidente peruviano non è mai venuto perché non era d'accordo, quindi abbiamo aspettato la terza inaugurazione perché l'edificio sia accettato dal governo. Il progetto fu un'iniziativa della Commissione della Verità e della Riconciliazione che ha indagato sul periodo di violenza politica che causò più di 70.000 morti in 20 anni. Il centro oggi collega, non è soltanto un centro per visitatori che vengono a Lima, ma collega in una rete comune tutti questi musei della memoria che sono stati creati dalle associazioni delle vittime di questo violento conflitto, disseminati nei posti più remoti delle Andi e costruiti e senza nessun appoggio dello Stato, come ho detto. Questo periodo ha creato molte vittime, la grande maggioranza non parlava neanche spagnolo, erano contadini che parlavano la lingua Quechua, quella dell'incas presi tra due parti in atti di estrema violenza. Tutti abbiamo sofferto in questo periodo di intolleranza. Uno di questi poliziotti, ho trovato la foto, era il bagnino della spiaggia che frequentavo da piccolo, perché i bagnini fanno parte della polizia in Perù, che fu reclutato nella lotta contro Sendero e fu testimone di come questi sospetti di appartenere a Sendero Luminoso, furono portati in Batelli per non tornare più. Io, scusate, l'ho visto, no passiamo. Capirete che è molto forte questo. La nostra prima domanda, quando abbiamo dovuto fare questo progetto, fu come iniziare a disegnare con questo peso così importante. Ci siamo detti che l'architettura non può mai esprimere la sofferenza e la violenza, perché il ruolo dell'architettura è di dignificare l'essere umano e trasmettere i valori positivi. Però l'architettura si può lavorare con la memoria in diversi altri modi. Dovevamo cercare quali erano questi ingredienti con i quali lavorare per integrare la memoria nel proprio progetto? Questi ingredienti sono la cultura, il territorio, il clima, il luogo, il programma e la tecnologia. La cultura ci permette di capire da dove si incomincia. Una paziente ricerca attraverso il disegno, iniziato nei nostri anni di apprendimento in Europa, ci ha permesso di costruirci una cultura architettonica e di avere la distanza necessaria per capire criticamente il proprio paese. Il lugar della memoria si inserisce in questa ricerca paziente e è indissociabilmente legato ai progetti precedenti e posteriori che abbiamo fatto. Capire il territorio è molto importante per noi. Se disegniamo la costa come una linea orizzontale che separa l'oceano dall'ovest dal deserto all'est, incontriamo una sequenza geografica regolare di piccoli fiumi che scendono dalle Ande e attraversano il deserto. Facendo uno zoom nel rettangolo rosso, ci troviamo con una serie di valette e contraforti distanziati tra i 30 e 50 chilometri, uniti dalla strada panamericana che va dall'Alaska alla Patagonia. Se ci concentriamo su uno di questi, la oasi dei fiumi Rimac, dove è impostata Lima, scopriamo un paesaggio frattale dove i burroni prendono il posto delle valli e le scogliere prendono il posto dei promontori andini. I 30 chilometri ci riduciono a 30 metri. È qui che sul bordo di Lima abbiamo avuto l'opportunità di costruire il luogo della memoria. L'area del progetto è stata donata al comune per quello che l'abbiamo fatto lì, che era un sito residuale generato dalla distruzione di uno di questi faraglioni in modo da poter permettere l'accesso carrabile alle spiagge sotto. Quindi noi inserendo l'edificio con la stessa logica delle scogliere, con una struttura compatta, abbiamo potuto rivelare la memoria e il paesaggio di questo bordo di Lima. Il faraglione artificiale ci porta, dunque il nostro progetto, ci porta a una logica territoriale, che era quello che Sandra vi ha spiegato, che si estende fisicamente attraverso 12 chilometri verso la destra, verso il sud della Baia di Lima. L'edificio è l'ultimo di una sequenza di faraglioni e burroni, come se fosse un appoggialibri che contiene la memoria geologica della Baia di Lima, perché a nord, qui a sinistra, i faraglioni sono stati tagliati, quindi è l'ultimo di questa serie frattale e geografica. L'edificio appare come un'estruzione della scogliera. Questo l'avevamo già sperimentato in altri progetti che abbiamo fatto su questo paesaggio frattale, come queste case a Cagnete, a 120 chilometri al sud di Lima. Quindi, tornando all'ora della memoria, questa sezione ci fa capire come la logica territoriale entra in risonanza con le altre logiche del progetto. Avevamo solo 4 milioni di euro, come vi ho raccontato, donati dal governo tedesco e dall'Unione Europea, per costruire l'edificio. La strategia territoriale e di paesaggio ci ha permesso anche di costruire in maniera più economica e con una logica ambientale. Vuol dire che la struttura compatta, situata molto vicino al faraglioni, ci ha fatto economizzare o ridurre il numero e profondità dei pilastri fondazioni. Aprendo l'edificio verso il faraglioni e chiudendosi verso la via veicolare, siamo riusciti a ridurre l'inquinamento acustico e potevamo proteggerci del sole del ponente. Creando anche un unico spazio ventilato naturalmente, abbiamo fatto anche l'economia dell'aria condizionata. Prendendo in considerazione che la maggior parte dei visitatori arrivavano dalla città, dai mezzi pubblici qui, ci siamo detti che il principale problema di questo sito, che era i 200 metri che separano il sito dalla città dove non c'era neanche un marciapiede, doveva diventare una realtà. Questo marciapiede è proprietà pubblica, però l'abbiamo dovuto costruire con i soldi dell'edificio perché il comune non voleva fare questa connessione. quindi tutte cose che dobbiamo come architetti lottare per arrivare al risultato. Però abbiamo deciso che questo problema doveva essere un'opportunità perché questa distanza introduceva il tempo, dunque un arco temporale che ci permetteva dunque con questo stretto percorso, di distanziarci dalla città, di lasciarci indietro le preoccupazioni di tutti i giorni, prepararci per una mostra che non è niente facile da assimilare. Lo spazio al cui arriviamo, quello di destra, non è più uno spazio urbano, non è neanche la spiaggia che c'è sotto, non è naturale, non è totalmente artificiale, è uno spazio ambiguo che ci permette di prepararci per la mostra. E poi il programma che è un altro di questi ingredienti è anche per noi un'opportunità perché il programma si accomoda usando la pendenza come un alleato, come un complice e non come un inconveniente. Dunque il sistema di piattaforme, di terrazzi che sono tanto comuni nelle Andi, ci permette l'accesso diretto a questi quattro grandi gruppi programmatici che sono le sale di esibizione, l'auditorio teatro, il parcheggio e la piazza pubblica. La piazza pubblica non era richiesta nel bando del concorso, l'abbiamo proposta a noi col fatto di fare questo edificio molto compatto e concentrato. All'interno gli spazi di esibizione sono connessi tra di loro per via delle rampe che ci portano in un percorso ascendente verso la luce. In questa immagine possiamo capire tutti i livelli come nella parte più bassa ci sia l'accesso al parcheggio senza rampe, l'accesso all'auditorio, la piazza pubblica che si connette con il burrone artificiale che abbiamo prodotto per entrare, con i livelli di esibizioni si sale e si arriva finalmente al balcone urbano sul tetto. I sistemi di terrazzamenti dunque mettono in rapporto tutti questi diversi ingressi, questo è quello dell'auditorio, l'auditorio che si trova sotto il livello della piazza, la piazza che abbiamo considerato di proporla perché Lima ha un deficit enorme di spazi pubblici e che consideriamo che per uno un edificio pubblico è un obbligo ogni volta che si costruisce uno di creare uno spazio pubblico. Questa piazza ha come aspirazione il creare col tempo uno spazio di tolleranza e inclusione. Un altro problema è la scarsità d'acqua, siamo in un deserto, tutta la striscia costiera del Perù è in mezzo a un deserto, con un clima eccezionale perché anche se non questa foto è un'eccezione soltanto qualche giorno d'estate dove si vede il cielo blu, però la forte umidità fa sì che non ci sia freddo, non c'è caldo, c'è molta umidità ma non piove mai, abbiamo 9 mm di pioggia all'anno quando nel deserto del Sahara ci sono 30 mm, quindi è un posto molto particolare. Abbiamo deciso di fare un bordo con l'acqua della lotta antincendio per portare l'oceano verso la piazza e l'acqua della fognatura è riciclata per innaffiare le piante. Avevamo già sperimentato questo modo di avvicinare l'oceano alle case al mare, essendo la prima la casa X a Cagnette 15 anni fa. Quando eravamo ancora a Parigi. Come abbiamo visto prima il percorso ascendente è costituito da rampe che ci portano ai diversi spazi di esibizione. La struttura è molto semplice e regolare ma soprattutto definisce lo spazio. Pensiamo che in un momento in cui la tecnologia evolve vertiginosamente possiamo immaginare che quello che dà la permanenza a un edificio sia lo spazio definito alla struttura. Tutto quello che vediamo qui è dell'ordine del permanente, ciò che modifica questo permanente è la luce naturale che entra nel suo movimento giornaliero e la struttura permette non soltanto di configurare l'interno ma determinano anche come l'interno si mette in rapporto con l'esterno per modulare la luce. La modulazione della luce è una cosa che curiamo molto nei nostri progetti. Questa casa al mare vicino a Lima ci protegge dalla luce tropicale specialmente d'estate. E quello che non è dell'ordine del permanente viene dipinto di bianco. Sono bianchi tutti gli elementi che evolvono col tempo, quindi gli elementi tecnologici, le ringhiere, le unioni tra questi plateaux o sale di esibizione, le pareti di esibizione e così via. La rampa per noi è anche un dispositivo di molta importanza perché è l'unico modo che abbiamo noi architetti di fare che la traslazione verticale e orizzontale sia equivalente e che permette di levare tranquillamente gli occhi senza aver paura di cadere. E soprattutto la rampa quello che fa è che rallenta il tempo. Ci mettiamo molto a camminare una rampa però allo stesso tempo dobbiamo lasciare il tempo vertiginoso, urbano, eccetera, e concentrarsi in questa esibizione. La rampa può anche servire per darci il tempo di modulare la visione tra le luce sfolgorante dell'equatore e l'interno ombreggiato di questo edificio a Piura nel nord del Perù. Dunque le ringhiere della rampa sono elementi non permanenti e quindi abbiamo deciso che sarebbero anche l'illuminazione per segnare il pavimento delle rampe. Accanto ai pilastri abbiamo costruito dei pilastri, quelli che vedete, bianchi, che sono come delle colonne tecniche che contengono la rete elettrica, le allarmi di sicurezza, impianti antincendio, eccetera. E man mano che saliamo la rampa ci accompagna verso la luce, questo è già con la museografia finita, fino ad arrivare al tetto e lì abbiamo proposto di uscire dalla mostra, però di entrare, questo è il tetto, però entriamo in un'ultima sala di esposizione, in un ultimo spazio che è concepito come un nuovo suolo e che è dedicato alla costruzione della memoria intima e personale, quello che non si racconta dentro si può raccontare fuori dalle stesse persone, i visitatori che hanno vissuto durante questo periodo. Salendo scopriamo l'orizzonte che chiaramente non viene più percepito nella stessa maniera dopo la visita, i visitatori che escono da qui non si incontrano più con quelli che entrano, per noi era molto importante, e da questo nuovo suolo si torna in città e la distanza ci permette di rientrare gradualmente anche nella quotidianità. vediamo ora un piccolo video, perché è molto importante vedere come si usa questo edificio. C'è il suono? ecco 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 Grazie. 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 Vorrei parlare un attimo su come è stato costruito, perché per noi è molto importante le decisioni sul fatto di costruire il lugar della memoria, quali sono stati i problemi e le opportunità di una realtà molto diversa dalla realtà europea, le condizioni particolari nelle quali lavoriamo nel Sud America ci permettono ancora di continuare col processo di progettazione durante il cantiere, quello per noi è un grande vantaggio, è un dono inestimabile che ci permette in ogni progetto di passare dallo schizzo al plastico, dal plastico al disegno preciso, dal disegno preciso al cantiere, dalla realtà indietro al plastico, al disegno e allo schizzo in una dinamica circolare tra la mente, la mano e la materia. Lo svantaggio che abbiamo però risiede nei mezzi con i quali lavoriamo, per esempio non avevamo ingegneri capaci di calcolare l'apporto di luce naturale all'interno dell'edificio, ma il fatto di poter intervenire creativamente durante il processo di costruzione, durante il cantiere, che ogni volta più difficile in Europa e in genere nei paesi industrializzati, è stato per noi un'opportunità. Abbiamo realizzato delle prove, dei film per diminuire l'intensità luminosa, che abbiamo verificato nel cantiere finché non siamo riusciti a ottenere la quantità ottima di luce, anche se questa facciata era già dotata di specie di brisolei che impediscono il sole del mattino di entrare. Abbiamo deciso anche che, consapevoli che nel nostro paese la qualità e la costruzione per gli edifici pubblici è molto povera, abbiamo deciso di seguire la stessa strategia Elie Corbusier quando abbandonò l'illusione della perfezione e del controllo del fatto di costruire. La forza dell'edificio non dipende allora di una buona finitura, né risiede nei dettagli sofisticati, ma nella capacità dello spazio di rappresentare i suoi valori e di dare senso al contenuto museologico. Abbiamo dunque scelto di utilizzare il cemento armato, che è un materiale costruttivo abbastanza disponibile in questa costa, dove non c'è il legno, non c'è la pietra, non ci sono materiali naturali. e di riprodurre un po' l'essenza delle scogliere alluvionali che sono accanto. Quindi abbiamo usato dei casseri che furono assemblati a mano, usando vecchi assi di legno, e facendo tutto a mano abbiamo evitato l'utilizzo di una gru e macchine sofisticate, che in Perù sono ancora più care della mano d'opera. Quindi abbiamo avuto l'opportunità di assumere più operai senza costi supplementari. Il tempo era il nostro alleato, perché questo chiaramente ci mette più tempo a costruirsi, però siccome eravamo sempre in questa lotta tra il governo che non voleva l'edificio e un cantiere che andava avanti per la forza di qualche personaggio civile, avevamo l'opportunità di lavorare in questo modo. E questo modo ci ha dato anche la possibilità di assorbire i veri errori che accadono sempre nei cantieri, e incorporarli come tracce che fanno parte della memoria. Ieri sera parlavamo di questa tolleranza del fatto a mano. E quindi questo fatto a mano diventa parte della memoria della costruzione dell'edificio. L'edificio registra così l'intervento umano, le cui tracce diventano tangibili e entrano in risonanza con le altre memorie. E la bontà del clima della costa peruviana, dove non fa freddo né caldo, non ci sono venti forti e non piove mai, ci danno altre opportunità per poter adattare materiali industriali come il vetro a una superficie che è stata fatta a mano. Il gesto più semplice diventa il più appropriato, come questo taglio nel cemento per permettere l'inserimento di una finestra scorrevole in un muro non completamente verticale. E molto spesso il budget, il preventivo limitato, ci constringe a cercare le soluzioni che sono difficili da immaginare o da trovare almeno in un mondo d'abbondanza. Al posto dei blocchi di vetro rotondi che avevamo previsto al momento del concorso e che ci siamo resi conto che non dovevamo importarli e abbiamo deciso di non farlo, il minimo sforzo economico col massimo effetto è sempre la miglior soluzione. Dunque abbiamo deciso di usare barattoli di miele vuoti incassati in questi pannelli di cemento al posto dei blocchi di vetro. E ci siamo resi conto dopo averlo fatto che portano all'interno i giochi di luce inesperati, che riproducono effetti stupendi di ombra e di luce dentro l'ombra sulla facciata, di giorno come di notte, e tutto questo con risorse molto limitate, ma con la libertà di proporre soluzioni senza dover fare costose verifiche e certificazioni per poter avere l'autorizzazione da organismi di controllo controllati a loro volta dai grandi assicuratori. Ci domandiamo spesso, perché abbiamo lavorato molto tempo in Francia, per quanto tempo ancora sarà possibile conservare questa libertà di inventare nell'architettura, anziché doverci rassegnare a dover costruire con i mezzi prestabiliti dalla industria della costruzione. La stessa cosa succede con altri materiali, per esempio i ciottoli che furono presi dalla falesia e che li abbiamo recuperati, li abbiamo disposti a mano, tanto nelle pareti come nei pavimenti, dove i lavoratori potevano esprimere liberamente le loro capacità. A ognuno veniva data una porzione del suolo e oggi se si guarda con cura si può capire dove incomincia il lavoro di un operaio e dove finisce. Dunque i ciottoli ci accompagnano, sono molto importanti per noi, fino alla piazza. e dunque non solo fanno riferimento alla scogliera accanto, ma anche a un monumento che è stato costruito anni prima, fatto da una scultrice olandese che si chiama Lika Mutal, dove lei usa i ciottoli come riferimenti come riferimento alle vittime. Per cui nel luogo della memoria avevamo nelle falesi una formidabile espressione della presenza dell'assenza delle vittime. Richard Long, uno dei più noti esponenti del land art, esplora con la presenza dell'assenza in una line made by walking una line fatta dal costante camminare su un prato, svella la presenza umana nella natura anche se la persona che ha lasciato la traccia non c'è più. Long ha fatto anche una linea in Peru e oggi si sa che le linee di Nazca tracciate duemila anni fa erano tracce di sentieri di procezione rituale intorno all'acqua. Le persone che l'hanno percorso questi sentieri sacri non ci sono più ma rimane la loro presenza. Il luogo della memoria, visto come una mappa dell'intervento umano, svela anche questa presenza dell'assenza. Quindi non soltanto i muri irregolari sono segno del lavoro dell'uomo e le loro impronte diventano parte del materiale e la memoria del processo costruttivo ma abbiamo deciso anche di lasciare per esempio le tracce del cane guardiano che avete visto prima sul pavimento. I costruttori non erano molto d'accordo all'inizio ma li abbiamo convinti e alla fine anche loro, tutti i lavoratori hanno messo le mani sotto il pannello, il luogo della memoria. Questo progetto ci ha portato ad immaginare come cambierà nel tempo anche. Lo spazio rimarrà uguale, la futura rovina di questo edificio non sarà molto diversa da quello che vedete lì e pensiamo che lo spazio è la risposta di questa resilienza anche quando l'ufficio cesserà di ospitare la necessità che ha portato alla sua costruzione anche se le finestre, l'arredamento, la museografia, l'illuminazione o i corrimano saranno vittime del tempo, lo spazio perdurerà perché la struttura dell'inficio. Riprendendo in chiave architettonica quello che dice Richard Long sulle sue opere di Land Art, l'architettura diventa uno strato che si aggiunge ai migliaia di altri strati di storia umana e geografica. Concentrandoci sullo spazio, l'architettura si libera dai preconcetti e dalla ricerca della perfezione permettendo al paesaggio di entrarci dentro. L'architettura diventa una mappa dell'intervento umano sulla materia e della natura sull'artefatto. Dunque in un mondo dominato al disegno digitale il gran problema è quello della sovradeterminazione riducendo la possibilità di intervenire creativa e sensibilmente nel processo di costruzione. L'industria della costruzione rifiuta l'imprecisione e l'indeterminazione e tutto deve essere verificato prima del cantiere per mezzo della simulazione. Ciò nonostante la simulazione è un sostituto povero per l'esperienza tattile che è molto utile per la costruzione di mappe dell'intervento umano. Infine, consideriamo che incorporare l'imperfezione propria del manufatto permette di esplorare le dimensioni della competenza, dell'impegno e del buon giudizio nella connessione intima tra mente, mano e materia ed improvvisare in un mondo ancora ancorato nell'infabilità della perfezione. Grazie. 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 Grazie mille per questa bellissima ed emozionante presentazione. e mi piace anche molto questa conclusione che voi avete scelto, che si applica, come vedremo anche al progetto che adesso segue, questo elogio della imperfezione. Certamente quando noi compriamo per esempio un cellulare o un'automobile vogliamo che sia perfetta, la tecnologia ci insegna che la perfezione è un valore, però quello che oggi abbiamo anche appreso è che da un punto di vista umano l'imperfezione è forse un valore ancora maggiore della perfezione. Quando una persona ci è molto odiosa, diciamo per esempio un perfettino, allora un perfettino dovrebbe essere un complimento invece è qualcosa che esprime un dissenso, un disagio, non mi trovo davanti, perché la perfezione non appartiene all'uomo e ovviamente se tu ti senti imperfetto sei anche portato a tollerare l'imperfezione degli altri. Quindi l'imperfezione, lo diciamo anche agli insegnanti, a noi stessi che sono qui presenti, ecco qualche volta bisogna anche tollerare l'imperfezione anche nei giovani perché se non è sciatteria o quando non è sciatteria l'imperfezione è un valore. Adesso passo la parola a Vincenzo Latina che pur essendo in uno studio in cui lavora anche la moglie però si presenta qui non in coppia ma da solo e quindi deve fare tutte e due le parti. Ecco voi vi siete suddivisi molto abilmente questa sceneggiatura diciamo del vostro storytelling, Vincenzo Latina dovrà far da solo ma lui è di Siracusa quindi è un uomo mediterraneo e certamente saprà fare un buon man show. Quello di Latina è un progetto che in qualche maniera lanciamo oggi quindi non è costruito, spero che sia augurale la presentazione in questa giornata di oggi e che rappresenti finalmente diciamo il punto di svolta verso una futura realizzazione ed è un progetto che riguarda uno si direbbe degli hotspot ma potremmo anche dire proprio dei punti sensibili della nostra condizione italiana e c'è l'isola di Lampedusa. L'isola di Lampedusa è un hotspot perché in termini tecnici perché è uno dei luoghi tradizionali e quasi obbligati diciamo delle migrazioni, dei flussi migratori e anche un luogo che tragicamente ha segnato perdite di migliaia di persone quindi segnato dal lutto, dal dolore, dalla tragedia ma anche perché a volte ce lo dimentichiamo ma anche questo è giusto dire Lampedusa è anche un posto turistico e quindi è proprio la classica medaglia che ha due facce. Allora uno degli aspetti diciamo della tolleranza che viene spiegato o viene anzi di cui questo progetto si fa carico come si può conciliare diciamo l'edonismo della vacanza anche legittimo della vacanza e quindi dell'intrattenimento quindi della condivisione dei turisti con l'aspetto invece tragico o per lo meno doloroso della migrazione. Allora come il progetto del lugar della memoria ci ha insegnato una cosa fondamentale che l'architettura può essere tragica, può contenere diciamo in sé il dolore ma contiene anche l'antito dal dolore cioè la capacità di assorbirlo e risolverlo in maniera positiva. Il progetto significa esattamente questo, gettare in avanti e quindi anche la proposta di Vincenzo Latina va esattamente in questa direzione, cioè di cercare di dimostrare anche all'incapacità dei politici, degli amministratori che hanno sempre la vista molto corta di come gli architetti servono proprio per questo, per cercare di gettare l'ostacolo in avanti e trasformare il dolore e la tragedia in un'occasione positiva. Vincenzo. Io ringrazio molto, non ci siamo messi d'accordo, ci siamo trovati ieri a cena e parlando abbiamo trovato una grande assonanza di intenti, di idee, quasi quasi. Io comincio dove loro hanno finito ed è una casualità, non ci siamo messi d'accordo ed è una cosa straordinaria, non ci siamo mai incontrati e quindi l'architettura di intenti ci unisce, ci dà quella vicinanza, quella forma di speranza potremmo dire, anche nelle condizioni più estreme. Quindi io vi parlerò di un progetto come già accennato, ma voglio fare un piccolo preambolo, quello da dove è cominciato, da dove hanno finito loro, la tolleranza e la capacità di resistere a delle condizioni sfavorevoli, potenzialmente dannose. In architettura, che è un campo di battaglia, costruire un edificio non è una pratica dolce, è un momento dove si confrontano varie esigenze, dove si trova una mediazione tra le parti, non è mai qualcosa di asettico che si costruisce, anzi non l'è mai stato. Quindi è un momento dove nell'architettura si assorbe e si limita il margine di errore nel progetto e nell'esecuzione dell'opera dell'uomo. Un termine molto comune che di modo ora è quello della resilienza, quella capacità di assalbire l'urto e di rialzarsi. Come dire, nonostante le avversità, cado e mi rialzo. La più grande forza non è quella nel essere sempre su, ma nel cadere e dopo che cadi la capacità di rialzarsi continuamente. Allora anche nell'architettura si possono trovare delle forme, come dire, dei materiali con memoria, che hanno quell'effetto di memoria, che nonostante le azioni che avvengono, mi è capitato con degli isolatori sismici, che sono nella base dell'edificio e l'edificio nonostante l'azione sismica si muove d'ondola per 15-20 cm di dimensione ma poi torna nella sua memoria, nella sua forma immaginata. Nel cantiere la tolleranza è fondamentale e comprende l'importanza dell'umanizzazione, cioè poi siamo, era già così eh, vabbè ci siamo messi d'accordo, dell'opera e l'errore è nell'uomo, l'errore è nell'uomo. E tanto è vero che la perfezione nel cantiere a volte è un limite, la perfezione è qualcosa da sottendere ma a volte inarrivabile. Allora bisogna mettersi l'animo in pace, bisogna comprendere chi realizza l'opera, con quali mezzi, con quale strutture e di far entrare in risonanza l'opera. E bisogna progettare con dei margini di tolleranza, quindi la tolleranza non è solo nelle relazioni con le persone, nell'idea della comunità ma anche nell'edificio. L'edificio è una comunità di materiali che a volte non vogliono stare assieme perché il vetro con legno non hanno nulla a che vedere, la pietra è la forza dell'uomo attraverso la geometria, la misura, la matematica che riesce a far convivere l'ingegno dell'uomo che riesce a trovare quella tolleranza di materiali che non sono mai nati per stare assieme fondamentalmente, perché sono materiali che poi l'astrazione dell'uomo che trova e quindi la tolleranza è qualcosa che fa sì che gli errori si possono assorbire. Mi ricordo un primo progetto per la corte dei Bottari che non vi mostrerò, ma il primo disegno di un viaggio fatto nell'Egitto che era appena tornato e avevo progettato questo contrafforte così particolare, tutto geometrico, misurato, doveva essere preciso, perfetto negli attacchi, negli incasti, nelle forme. E ho avuto la fortuna, grandissima fortuna, di trovare un bravo mastro di pietra di grande tradizione, di grande cultura che l'avrebbe fatto sei volte meglio perché lui realizzava i capitelli a mano libera e li ha realizzati quella della cattedrale di Noto, li ha ricostruiti a mano libera i capitelli. Allora mi ha detto l'architetto questo non si può fare, è un disegno, ovvero se lei lo vuole utilizzare come rivestimento si taglia e si monta, ma se vuole una pratica costruttiva è un'opera che con i mezzi che ci sono e con le cose che ci sono forse conviene lasciar perdere. E io dissi ma è perfetto? Le cose perfette sono sbagliate. Perché? Perché sono sbagliate? Perché l'eccesso di precisione che non comprende l'errore degli altri fa sì che basta un piccolo errore che si somma sull'altro, la capacità progettuale è quella di comprendere nel progetto l'errore che possono fare gli altri e far sì che il dettaglio, l'edificio, quello che si immagina è presente l'errore. L'errore diventa quella forma tale di tolleranza, chiamiamola così, la tolleranza che fa sì che anche il posatore possa avere quel margine di umanità, perché l'umanità fa parte dell'uomo, la stanchezza, la fatica del fare, di prendere le cose, di spostarla, fa parte dell'umanità. E quindi questo disegno così astratto che non l'avevo fatto per costruzione, ma l'ho fatto per forma, perché lavoravo per forma, perché avevo l'affascinazione dei muri egizi e quindi ero tornato stordito da questa bellezza di questi paramenti, non avevo compreso la forma costruttiva, ma avevo compreso, ero affascinato dalla forma di superficie, superficiale potremmo dire. E allora poi è diventato altro, è diventato altro che sono entrato nella logica della tolleranza, ma sono arrivato ad una logica della tolleranza anche estrema, nel senso che nel lavorare dei blocchi di pietra, la sega quando trovava maggior forza, vibrava di più e quindi quando la sega vibra ti lascia questi colpi di sega che si muove. E lui voleva levigarli per togliere l'errore dell'uomo, della macchina che fa fatica. Ho detto no, a questo punto no. Mi piace immaginare che la durezza, la difficoltà della lavorazione faccia parte della costruzione e quindi far sì che l'errore, definiamolo, la difficoltà del lavoro sia palese e questa difficoltà del lavoro che sia palese in alcuni momenti si illumina. Ecco, la luce ti mostra mondi che vanno oltre la levigatezza pura e pura di un'idea di forma apparente, diciamo così. E ora passiamo con Lampedusa. Lampedusa sta dentro un contesto geografico più ampio, è un'isola piccolissima che si trova più vicino all'Africa che alla Sicilia e questo è un piccolo puntino, la condizione politica potremmo dire quella dell'Europa, questa parte del bacino del Mediterraneo, i confini ma soprattutto il mar Mediterraneo e Lampedusa sta in questo puntino di qua, qua dentro. Ed è una piccola cosa, il Mediterraneo è centro di grandi movimenti, di flussi migratori per necessità, per necessità alcuni, altri per voglia di riscatto, per una vita migliore, altri perché fuggono, cioè ci sono varie sfaccettature, cioè non è quasi mai tutto la stessa condizione. E questa è una tesi che ho seguito di due miei studenti che hanno fatto su Lampedusa ma su un hotspot, su una biblioteca, su un centro comune, che hanno fatto questo studio prima. Queste sono le principali rotte illegali del Mediterraneo, alcune quelle che hanno potuto riconoscere dentro il Mediterraneo. E come vedete è molto attraversato, continuamente attraversato. Questa è una delle aree di influenza, di controllo del Mediterraneo quando ci sono stati i primi sbarchi con i neofragi, mare Nostrum, che è stata messa poi in discussione perché non si mettono d'accordo l'Europa come accogliere, come smistare o come rimandare. E quindi è entrata in crisi subito dopo. Ma questa era una delle aree di influenza. E questa mappa è impressionante, nella parte più chiara si vedono i principali naufragi. I principali naufragi sono stati in Grecia e non ne parla nessuno, se ne parla poco, ma il mar greco è un'ecatombe. E poi quello del Mediterraneo basso dove c'è l'isola di Lampedusa che si trova dentro questo fulcro, diciamo così. Ecco l'ingrandimento. Non scorre. Che è successo? È scappato, quasi è bloccato. Ok. Si entra nella questione di tempo, il viaggio. Come dicevano loro, che si lasciano delle tracce durante questo viaggio? Immaginate mille anni fa un viaggio che facevano, immaginate un po' da Siracusa fino a Milano, che durava mesi, o altri viaggiatori che si imbarcavano e non sapevano dove arrivavano. E' un po' una condizione di nostro immaginario Hamid, che parte da Asmara e ha raccontato le sue tappe, con le sue soste, alcune volute, altre forzate, altre perché è stato preso ostaggio, perché chiedevano il riscatto ai familiari per riuscire a continuare questo tragico gioco dell'oca. Quasi un risico, cioè se non ti fai mandare dai tuoi familiari 200 dollari, stai qua e ti lasciamo morire e quindi questa Hamid di volta in volta. Altre persone che non potevano pagare, pagavano in modo diverso, col sacrificio anche del proprio corpo. Non a caso molte donne vengono incinte, quasi tutte, perché sono quasi tutte violentate. E quindi nel trascorrere questi mesi vengono già in uno stato di gravidanza di parecchi mesi. Questo grafico rappresenta le 75.000 richieste di asilo al 2015, che è il momento della tesi che abbiamo fatto. E quindi si evince da dove arrivano. La maggior parte, fino a quel momento, erano siriani. Per una guerra che sappiamo che è stata tragica, invogliata dall'Occidente per mettere in crisi un sistema, poi gli è sfuggito di mano e chi ne ha pagato è stato il popolo che si è trovato completamente diviso in due parti. I nemici, una guerra civile. Lampedusa, io poi parlerò di un memoriale, ma nel 2015, non se ne parla moltissimo, dopo che nel 2013 furono fatte cerimonie, mai più, mai più, accadrà, non accadrà mai più, nel 2013 pubblicamente fu fatta questa sorta di promessa solenne, nel 2015 ci sono state 802 vittime di naufragi, che non è una cosa da poco. E' 369 nel mese di 8 e di agosto. Giusto. E col bel tempo anche, cioè non è che è successa una cosa così. Lampedusa è questi solotto che si trova più vicino all'Africa che alla Sicilia, appartiene alla placca africana, si raggiunge con l'aereo facilmente, ormai dappertutto, perché è un centro turistico eccezionale, straordinario, magnifico, oppure via nave. E' un magnifico scoglio sul mare. La parte più alta, quasi 120 metri, che scende a strapiombo sul mare, è quella che si affaccia verso quella che è la Sicilia e l'Europa. E' quasi quasi che volta le spalle geograficamente, geologicamente all'Europa, e la parte più bassa, quella del porto, è verso l'Africa. E quindi è questo piano inclinato, folto di vegetazione, i borboni per far legna e per far carbone, che aveva un valore importante, hanno disboscato completamente l'isola, perché era folta di vegetazione, per farla diventare l'industria del carbone. Quindi c'è stato un momento in cui l'isola si è trovata senza un albero. E poi piano piano hanno dovuto, e tanto è vero che ha pochissimi alberi, ha tanti cespugli, ha tanti arbusti, straordinari. delle conformazioni, della geografia, della forma geologica dell'isola, e l'area di intervento è quella accanto dove c'è questa piattaforma dell'aeroporto, che è fondamentale, che ha uno scopo civile, ma anche militare, d'altronde poi in queste condizioni, è fondamentale. Noi ci troviamo dietro, e questa forma, questa qua, della pista dell'aeroporto, separa nettamente il centro, quello dei sette quartieri, questo qua, sette palazzi della città, possiamo dire, della piccola città, che passa da 6.000 a 40.000 abitanti d'estate. Quindi ha uno stravolgimento di servizi, di acqua, di fognature, di fognature, uno stress incredibile, quasi, che una città cresce otto volte in pochi mesi, e poi tutto torna nella normalità. Non c'è una normalità. Allora, le cave sono quel puntino rosso che si vedono sotto. Ecco, questa forma di cave, l'erma bifronte che raccontava Fulvio e Rache, che è costante anche in molti miei progetti. Cerco di mostrare i due mondi, le due facce della stessa, una che ride del pianto dell'altra e l'altra che piange del riso dell'altra. Però fanno parte di un'unica cosa, è la stessa condizione. L'isola è, come dire, provate ad andare all'isola dei conigli, fare un bagno e dovrete chiedere permesso ai saraghi che si spostano poco a poco perché c'è un mare che è impressionante. Una cosa da brivido, cioè, non sempre manco vero per quanto è straordinariamente limpido, pulito, pieno di pesci, pieno di pesci, pienissimo, una cosa veramente da sogno, potremmo dire. D'estate, molti vanno là per la vacanza per il mare, chiaramente, perché c'è un mare che è incredibilmente bello, affascinante, in cui c'è una costa eccezionale e la terra è arsa e si vede un po' brulla perché il sole piove poco, non come nel Perù, ma piove poco e quindi cosa accade? Che i turisti vacanzieri vanno dall'interno verso il mare, il mare è il momento della grande gioia e certo una gioia collettiva anche con dei fondali eccezionali. Lo stesso mare, l'erma bifronta, è visto da chi stava nella barchetta, questi erano fortunati, tra virgolette, perché fino a qualche anno fa li mettevano su dei barconi di legno, ora sono barconi gonfiabili, perché quelli di legno li hanno distrutti tutti e quindi cosa accadeva? Lo stesso mare è visto come il pericolo da chi è in queste carrette e vede la terra come la salvezza, quindi due mondi che appartengono alla stessa condizione, uno che vede il mare come la grande gioia, il grande momento di condivisione e di star bene nella vita e nell'esistenza con la natura e gli altri contestualmente che stanno nel mare e nel mare vedono il grande pericolo della loro vita. Le cave, il primo incontro mi era stato chiesto di immaginarlo come un luogo lussureggiante pieno di giardini, pieno di piante, pieno di essenze, ma il luogo siccome piove poco e ha una sua bellezza già di suo, l'idea della lavorazione dei tagli della cava è affascinante, mi ha subito piaciuto, io ho detto guardi qua non bisogna fare niente, mi hanno guardato, ho detto come non bisogna fare niente, poco possibile, meno possibile, dobbiamo fare poco, ma poco deve essere preciso, misurato, perché il luogo ha una sua potenza, ha una sua vocazione potremmo dire e il luogo ha una sua bellezza, sembrano delle costruzioni, dei resti di costruzione di altari antichi, di quello che resta di civiltà, che è stata la civiltà della costruzione anche della cava, della coltivazione della pietra, anche se questa cava ha pochi anni ed è del novecento e questa cava è sul mare, quando si è dentro in alcune parti non si vede il mare ma si sente, lo si annussa perché c'è un odore di odio incredibile, senti le onde ma non lo vedi, però lo percepisci, l'immaginazione del mare è ancora più potente del mare stesso alcune volte, immaginarlo e non vederlo, e questo è un mare profondo, è un mare scuro, cupo, è un mare bellissimo, eccezionale, la sezione è quasi costante, 4-5 metri che varia di volta in volta, i primi schizzi, le prime idee, questo taglio è la profondità dell'abisso, abbiamo rilevato con un gruppo di collaboratori perché questi tagli, queste pietre sempre non accade nulla ma è un mondo microscopico di piante, di essenze che resistono nell'ombra del taglio, l'ombra del taglio è la speranza per le piante che lasciano le loro spore, i loro semi e anche d'estate nei momenti caldissimi in cui la cava raggiunge tranquillamente 40 gradi tranquillamente, le piante resistono attraverso questi fori che per poi tirano fuori la luce. mi trovavo Francesco Venezia che raccontava guardi professore sto realizzando quest'opera e mi disse è complicato là non deve fare nulla ma cosa prenderà? Guardi l'infinito di Leopardi mi ha guardato e mi ha detto ma cosa sta raccontando? Ha detto sì perché non voglio essere un po' presuntuoso ma l'idea della siepe che nasconde l'immagine fa sì che l'immaginazione del pensiero va oltre e quindi dà la speranza di immaginare altri mondi e il mondo dell'immaginazione è più potente del visibile l'invisibile è più potente del visibile e allora come dire poi come quando chiude così tra questa immensità Sannega il pensier mio è un naufragarme dolce in questo mare il naufragarme dolce in questo mare il naufragarme non è mai dolce nel mare ma sentirsi in quella condizione della parete e sentire il mare dietro ma non vederlo di percepirlo quando sei incassato nella cava a pochi metri dal mare dà una condizione di immaginazione forte di potenza evocativa e quindi il 23 3 2017 abbiamo fatto questa ricognizione puntuale di tutte le pareti fotografata a vicinanza che potremmo come dire fare una mostra di dettaglio che inizia da là e fa tutto il giro della sala ci hanno preso per pazzi ma che cosa fotografate ogni cosa ha una sua ragione abbiamo preso parte per parte parete per parete dettaglio per dettaglio e abbiamo scoperto tantissime cose piccoli animali piccoli insetti piccole piante piccole piccole forme di resistenza i tagli che erano quelli della lavorazione sono diventate la speranza delle piante dove le piante si aggrappavano e poi è un ammasso di conchiglie di contrizioni di sostruzioni di tagli attraverso l'ombra guardate la differenza questa parete è esposta a sud ed è luminosissima quella esposta a nord che non prende il sole è quasi color catrame è impressionante sempre la stessa condizione e poi soprattutto questa qua che è esposta verso il mare quindi c'è l'umidità del mare e prende poco sole quindi la stessa roccia diciamo così in una parte è dorata e appena ti giri non è più dorata è un grigio cupo scuro che sembra un altro materiale ma è sempre lo stesso materiale anche qua questi tagli di sega che poi tornano per questo mi hanno affascinato perché reduce di quel lavoro della corte dei bottari dove là cercavo questa difficoltà l'idea della sega della bellezza del lavoro il lavoro è bellissimo quando è fatto coltivare le case si dice coltivare coltivare e quindi i tagli le sostruzioni le contrizioni tutte immagini che fanno parte di questi muri che parlano che sono parlanti questi muri i temi delle piante allora il progetto si basa su alcuni temi uno dei temi è quello della fruibilità ovvero quello di rendere accogliente questo luogo che è già di per sé affascinante attraverso dei dispositivi uno è quello dell'ombra cercare di portare l'ombra però un'ombra discreta perché la cava deve mantenere l'idea di questo luogo assolato forte potente attraverso queste pareti attraverso dei pochi segni dei pochi gesti di portare l'ombra l'altro è quello delle piante siccome piove poco c'è questa parte quella segnata col pallino che è più bassa che raccoglie le acque e che fino a maggio si mantiene umida quindi di raccogliere eccolo qua queste foto fino a maggio e quindi di raccogliere le acque che vengono tutt'attorno e di far sì che delle piante endemiche che fanno parte dell'isola che trovano questa corrispondenza ma non questa natura lussureggiante che gira ma solo in quel luogo che dà questa percezione l'altra qual è l'erama bifronta quella di un luogo per lo svago per il teatro un luogo dove è possibile d'estate di sera assistere a dei concerti delle rappresentazioni quindi un grande teatro una grande platea ma l'idea non è quella del teatro con i gradoni con le forme è una grande scalinata che segue l'andamento del terreno che già di per sé è un teatro naturale di costruzione di andamenti e di tagli nella roccia potremmo dire e allora l'idea qual è stata? Quello di comprendere la potenza di questi piccoli tagli è macinare la pietra che si trova sui bordi e ricostruire un calcestruzzo ecologico con la stessa pietra con degli inerti trovati sempre nella stessa cava e far sì di modellare dolcemente e far sì che ecco qua questa parte che si vede sopra quella gialla è quella di questa scalinata che poi diventa teatro può essere un teatro perché è molto larga comoda e quella nera è l'andamento della roccia e poi c'è questo disegno della pavimentazione in cui noi diamo delle matrici con delle lastre di pietra poi queste matrici si riempiono come quasi delle casserature a perdere con del calcestruzzo il calcestruzzo ricostruito con la stessa cosa quindi con dei margini di tolleranza far sì che anche se l'operaio questo asse lo sposta di 10 cm non accade nulla perché la tolleranza fa parte della costruzione quindi non vogliamo costruire una geometria perfetta un mosaico perfetto che tutto deve essere perfettamente realizzato in quel punto no diamo delle regole attraverso delle regole le maestranze trovano delle risposte e se varia di pochi centimetri viva Dio nulla accade perché rientra dentro questo gioco complessivo di un mosaico più ampio e questa è l'idea che ci porta a questa sorta di gradinata che poi scende da questa gradinata si può cogliere il mare il teatro diventa il mare perché qua siamo più alti quindi in questo caso quando si è sulla gradinata il teatro è il mare il mare si può cogliere ma quando si scende dalla gradinata il teatro solle mura e il cielo e quindi non è è una scalinata che assorbe che può anche servire per far sì che diventi questo luogo piacevole l'altro è quello di raccogliere sempre un'altra parte con l'ombra con un piccolo telaio con piccoli oggetti con piccoli assi e uno e qua passiamo al memoriale abbiamo immaginato cosa non richiesta a principio ma che ho pensato io ho detto ma perché in questo luogo così potente in cui c'è questa memoria così forte non si immagini qualcosa e ci sono un memoriale costituito da due parti uno è quello del naufrago il memoriale di ogni tempo di tutti i naufraghi potremmo dire e quale potrebbe essere quello di prendere non c'è più questa condizione di Lampedusa questa è quella di alcuni anni fa non è così ci mancherebbe altro però questa dava l'idea del dramma che ha vissuto quell'isola e che ha saputo assorbire tollerare tollerare perché 4.000 persone molte volte si sono trovati con 2.000 naufraghi potremmo dire e quindi non è una cosa facile assolutamente e quindi prendere una di queste barche e far sì che una delle barche possa diventare un memoriale e l'altro quello del 3 ottobre in cui quasi di mattina nell'alba la barca era quasi quasi sulla costa prende fuoco si agitano si capovolge e con la picco a pochi metri è di 500 persone 388 anzi 368 muoiono e 20 persone sono dispersi quindi 388 morti d'altronde ahimè e quindi il video dovrebbe partire già direttamente o no? Vi chiedo solo di fare un po' di attenzione sulle bolle d'aria perché poi questo video l'ho trovato dopo che ho fatto il progetto e si trovano delle corrispondenze un po' di attenzione un po' di attenzione di attenzione sulle bolle d'aria Sì. 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 Questo video non è mio, è citato, sta nel web. Allora l'ho trovato solo dopo e poi le cose si ritrovano. L'idea qual era? Quella di prendere una di queste barche che si trovano là, già bruciate in parte e di completare l'opera attraverso un'opera di conservazione, attraverso la bruciatura del legno che è una tecnica giapponese, sujiban, che è una tecnica millenaria giapponese che bruciavano il legno per far sì che si potesse conservare nel tempo. Lo carbonizzavano solo superficialmente, lo pulivano e lo trattavano con dell'olio, con dell'olio di lino e questa tecnica fa sì che il legno dura molto. Carlo Scarpa nei suoi viaggi, quelli del Giappone, apprende questa tecnica e ne fa grande uso e quindi questo mondo è poi stata ripresa ultimamente, forse un po' eccessivamente, a mo' di moda. Ma tutto fa parte e quindi è letteralmente bruciare le tavole di cedro, sujiban. Il legno diventa ignifico, ininfiammabile, cioè il legno si autoprotegge, diventa quasi un fossile potremmo dire e quindi essendo fossile quella parte superficiale è inattaccabile. Quindi l'idea qual è? Quella di continuare l'opera di carbonizzazione di quella barca e farla diventare un fossile. Una di queste barche, quella bruciata, e di piazzarla in una di queste cave per far sì che diventi, che perda la memoria della traccia, della vernice, di chi l'ha costruita, ma che diventa questo blob, questo oggetto misterioso, quasi un fossile approdato dentro questa cava. Quindi prendere una di quelle barche e continuare l'opera di carbonizzazione. E l'altra è il memoriale del 3 ottobre, quella della barca che si è capovolta, che abbiamo visto quel filmato, e rappresentare con pochi mezzi, con poche risorse, perché il budget è di 320.000 euro, immaginate, 5.000 metri quadrati di cava. E' poco. Allora, in questo caso, sulla parete più scura che dà sul mare, si è immaginato, scusate questa parola, ma una mitragliata sulla parete, di 388 fori. 388 fori con delle misure e dimensioni diverse, ma non messi casualmente. L'idea era quella di far sì che questi 388 fori sulla parete rappresentino il dramma congelato, quasi delle bolle d'aria congelate nella roccia. Bolle d'aria di chi è morto sott'acqua, ma che è rimasto proprio bloccato in quella condizione. Questo è il mare che sta subito dietro, dietro quella parete. Queste bolle d'aria sono disegnate attraverso una costellazione, delle triangolazioni, che compongono una costellazione astratta. Allora di giorno c'è quella parte della mancanza e sono bloccate che dal basso cercano di risalire verso l'alto. Danno questa percezione di congelato che dal basso cerca di risalire verso l'alto. L'idea qual è? Solo il 3 di ottobre di fare una cerimonia di commemorazione attraverso la semplicità del gesto. Prendere dei piccoli lumini col fuoco, delle candeline e fare questa cerimonia di portare 388 candeline e accenderle al tramonto. L'idea è quella di far sì che attraverso la luce quello che è la mancanza di giorno diventi presenza di notte e quella che è questa sorta di costellazione astratta di giorno si regoli con l'universo e anche questa memoria faccia parte dell'universo. Il cielo stellato che scende nella roccia, la roccia perde la sua forza ma diventa parte di una costellazione più ampia. Eccolo qua. Grazie. Grazie mille Vincenzo per questa grande emozione che ci hai dato. Tu parlavi, mi veniva in mente, c'è un mito bellissimo nella mitologia greca che è quello di Perseo e Medusa. Non so se avete presente, c'è un famoso quadro che è un tondo di Caravaggio dove si vede Medusa che è questa donna orribile che ha i serpenti al posto dei capelli e che ha questo vizio tremendo che chiunque la fissi si pietrifica. E l'unico che riesce a sconfiggere Medusa è Perseo perché Perseo vola e quindi riesce a sfuggire allo sguardo di Medusa. Dobbiamo immaginarci che Medusa è come la disperazione, la disperazione, il dolore enorme è qualcosa che paralizza, che ci condanna all'inazione e che ci porta alla morte. L'unico sistema per vincere la disperazione è la creatività, il volare alto. E credo che i due progetti che abbiamo visto oggi siano la dimostrazione proprio di questo volare alto. Un volare alto che non è una fantasia gratuita, questo è un punto fondamentale, ma che nasce da un'osservazione attenta. In tutti e due i progetti avete visto che si comincia con la descrizione del contesto. Ma se per la maggior parte di noi il contesto è una fotografia e una cartolina, qui è come se ciascuno dei progettisti si facesse un sommazzatore che scende giù e con un microscopio comincia ad analizzare le pieghe della terra, i corrugamenti della costa. Fra l'altro c'è una similitudine molto interessante. Sono due progetti di costa tutti e due, sono due progetti di roccia tutti e due, faraglioni e rocce. Non l'abbiamo fatto apposta, è venuto fuori così, ma è una giornata particolare. E allora soltanto ingrandendo questi particolari, questi particolari rivelano un'anima, rivelano lì dove sembra che tutto sia morto, che tutto sia una scenografia di pietra, rilevano le piccolissime tracce di vita, che sono quelle tracce della vita o della memoria a cui bisogna appigliarsi per volare alto e superare la disperazione. Ecco, io quindi veramente sono molto commosso alla fine di queste due presentazioni perché mi sembra che non ci possa essere una dimostrazione più immediata, più diretta, senza neanche nessuna spiegazione di questo. E di come a volte noi siamo tremendamente superficiali, presi in questa idea costante del consumare immagini in continuazione dalla televisione, da internet, eccetera, quindi vediamo tutta la successione di queste tragedie che alla fine ci sembrano un unico grande film che non incide sulla nostra vita. Ma se per un attimo soltanto ci soffermiamo a conoscere, perché l'atto fondamentale è questo, guardare per conoscere, ci rendiamo conto invece dell'enorme potenziale che abbiamo nelle nostre mani di trasformare il dolore e l'esperazione in un momento di risalita e di ricostruzione. Quindi veramente grazie moltissimo, faccio la parte anche di tutto il pubblico per ringraziarvi. Ovviamente, ecco, se non avete una fame tremenda e se avete invece una grande curiosità possiamo avere ancora a disposizione qualche minuto, se volete fare delle domande, delle osservazioni, delle richieste di qualunque genere. di solito fa parte, diciamo, dei nostri rituali di intrattenerci un po' con i nostri ospiti. Se qualcuno volesse chiedere anche informazioni maggiori, non so, oppure esprimere il proprio parere, abbiamo tutta la possibilità di farlo. Sì, prego. Ero curioso di sapere se il memoriale che avete progettato coinvolgeva anche la parte del potere, o era solo un memoriale di sendero luminoso. Cioè se il memoriale era solo rivolto alle persone che avevano perso con sendero luminoso, i parenti, oppure riguardava anche la parte avversa, cioè la parte politica, la parte... Cioè se coinvolgeva entrambe le parti, in questo ricordo, in questa memoria, in questa... Sì, no, il luogo della memoria vuole, diciamo, prendere delle parti di memoria, perché tutta la storia è impossibile da raccontare, però da tutte le parti. Cioè perché le vittime sono da una parte, ma anche dall'altra. Sì, 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 sì. Sono gambo le parti. Appunto, quello che è successo è che all'inizio del progetto, quando c'è stato il concorso, c'era già un contenuto museologico che era l'illustrazione del rapporto della Commissione della Verità, che si chiama Yuyanapak, che in che ciò vuol dire per ricordare, e però quando abbiamo cominciato a lavorare, il progetto di architettura, la Commissione ha deciso che questa era già una visione che apparteneva a un tempo storico e che quindi si doveva fare una storia più ampia e più tornata, non verso chi è colpevole o chi è responsabile, ma verso la nostra responsabilità sul futuro. E quindi abbiamo... L'edificio è stato finito nel 2013 ed è stato chiuso per due anni perché la nuova museografia e il nuovo contenuto doveva essere riscritto e consentito da tutte le parti. Dunque dai pentiti di Sendero, dai politici, dall'esercito, dalla polizia e dai giornalisti che hanno sofferto anche... Dunque tutti hanno sofferto e dalle associazioni anche delle vittime nelle quali si trovano i parenti morti che erano poliziotti e i parenti morti che erano di Sendero. Questo per un dirò un intero popolo. Sì, e che loro... Il fatto è che loro, questi parenti delle vittime, si sono riconciliate infatti e appartengono alla stessa associazione che vengano da parenti poliziotti o... Però il popolo in generale non è riconciliato, è un lavoro ancora da fare però che è molto attivo e ci sono molti politici che non vogliono che ci sia questo... Riconciliazione. Sì, che ci sia questo edificio. E racconto soltanto un'aneddota perché c'è stato praticamente tre mesi fa un congressista, un membro del Parlamento che è andato a filmare il Lugare della Memoria e ha detto che noi avevamo fatto l'apologia del terrorismo perché avevamo fatto i sentieri che con queste rampe luminosi. Beh, ci sono anche sull'aereo, sull'aereo ogni volta che ti siedi io penso sempre a questo, quando ti dice seguire il sentiero luminoso. E quindi... Ma la cosa interessante è che a partire da questo attacco perché voleva provocare che si chiudesse ci sono stati molti già direttori del Lugare della Memoria che hanno dovuto dimettere per diverse ragioni, sempre politiche, e da quando questo personaggio ha detto questo alla televisione si è decuplicato la quantità di persone che vengono a vederlo. Per cui è anche una necessità che ci sia una confrontazione ancora. Abbiamo bisogno di confrontarci per risolvere i nostri problemi. se non ci sono altre domande volevo chiudere anche personalmente ringraziando il Cersaie da Presidente fino a tutti quanti i componenti anche lo staff tecnico perché anche quest'anno diciamo come questa conferenza ha dimostrato in questo diciamo noi italiani siamo abbastanza creativi si può conciliare come dire l'aspetto commerciale di una fiera perché certamente questa è una fiera commerciale siamo contenti che lo sia figuriamoci con aspetti culturali siamo stati qui due ore e mezza e non abbiamo parlato neanche di una piastrella quindi grazie molto al Cersaie e a questo visto una giornata a tutti che c'è e a questo visto è un po' un po' un po' un po' Autore dei sorrisi